bella a tutti ragazzi tubo master siamo in live ok siamo in live perfetto ok ragazzi mi sono fatto i barbari scelti al 13 ciao programmer mi sono ragazzi appena fatte i barbari scelti al 13 niente non ho più soldi solo questo per dirvi ok voglio fare una battaglia mamma mia quanto è bello ecco andiamo ad appare diciamo che ora il mio obiettivo sarebbe farmi tutte le leggendarie al 2 tutte questo già c'era al 2 allora programmer vedo che tu fai parte sempre di tutte le mie live cioè ogni live che io faccio tu sei sei sempre qua quindi ho deciso di farti moderatore mi raccomando non farmene pentire adesso ti faccio moderatore ma ma raga i barbari al 13 ma che cosa di che stiamo parlando ma veramente su gta raga io l'ho detto registro dal cellulare quindi non è che che gioca gta minchia qua la torre mi ha fatto no raga ormai l'ho detto non è perché io voglio tornare indietro sulla mia scelta ma ormai l'ho detto a programmer perché ogni volta lui partecipa sempre alle mie live e lo voglio premiare aspetta che aspettate aspetta che vai a creare segnali nuovi metti utente in the mouth blocca eh ma non so come si fa raga blocca vai al canale segnala rimuovi come si fa a metterlo scrivetemelo nei commenti perché vi giuro che non so come si fa scrivetemelo nei commenti come si fa a mettere moderatore perché non so come si fa e non so come si fa scrivetemi nei commenti come si fa aspetta perché qua fa vai al canale segnala i rimuovi metti in the mouth e blocca voi sapete come si mette il moderatore se è qualcuno che lo sa fai una live iscritto ricambio eh vabbè ma comunque in ogni caso le live per chi c'è ricambio sempre infatti mi sono iscritto ai vostri canali io ero iniziato questa sfida fate entrare un po' di gente mi raccomando ragazzi chi vuole essere salutato può essere uno scrive che che lo saluto quando controllo la chat ok qua per me gli abbiamo preso la torre al 101% qua facciamo così ok che app usi per registrare dove l'hai scaricata l'ho scaricata su play store e l'app mobizen live mi sembra ora ve lo ve lo faccio vedere adesso ve lo faccio vedere non parlo perché sono concentrato per questo dove prendermi solo danni del minatore porca la puttana lo facciamo così oh ma che cazzo ti girano tutti a te non so mi vuoi mettere il pack anche dall'altro lato comunque una cosa è certa adesso ci vado cattivo perché mi ha rotto le palle no raga ma ma scusatemi l'elisir lui da dove se la prende dal buscio del culo no fatemelo capire perché non davvero c'è l'elisir da dove cazzo la prende c'è dai mettimi un altro mettimi un altro pecca dai mettimi un altro pecca c'è se ora lui mi mette ecco io lo sapevo minchia picciotti com'è che no no drago infernale ti devi girare dall'altro lato sennò qua ce la siamo presi nel culo ok raga dieci gemme buttate al vento per aver fatto solamente due vittorie 240 di ore 4 cannoni oddio l'epico che non è male ok raga l'applicazione è questa mobizen live è facile bi registrate bi registrate ciao Antonio saluto Antonio ciao Antonio fate entrare un po' di vostri amici live tra 55 minuti abbiamo il baule della corona andiamoci a fare una partita vediamo se riusciamo ad arrivare alle 4000 coppe e adesso dovrebbe essere un po' più facile vincere le partite diciamo che ora che ho i barbari scelti al massimo perché non è da tutti avere i barbari scelti al massimo che coglione questo non è da tutti avere i barbari scelti al massimo e comunque quando poi sono sotto torre a livello 13 compa a livello 13 mica ma anche i cannoni li fermano cioè oddio l'unico che lo ferma è il razzo ma dipende a quanto ce l'hai si ma io ti dico fai entrare qualcuno in live fate entrare qualcuno in live amici amiche zite ziti parenti nonni no i nonni no scherzo però fate entrare a tutti quelli che potete siamo 4 in live vi ringrazio a tutti noi minchia picciola la torre infernale la odio ora sto qua o ci va di razzo e si chiude ecco picciola ecco minchia io odio queste persone io le odio queste persone che ci vanno di razzo no adesso io ti punisco perché ci vanno di razzo e si chiudono in difesa hai visto come adesso e si chiudono in difesa no io adesso ti punisco no no mi interessa i barbari entrati in torre io questo qua lo devo punire fa troppo lo scaltro io odio questi giocatori sì perfetto grazie fai scrivere i tuoi amici che manca poco e arriviamo a 100 iscritti un bellissimo traguardo cioè picciola vuole fare a tutti i costi la torre aspetta quanto l'ho ridotto la torre di hp 23 di hp e vabbè ok vediamo io quanto sono messe di corone un po' è brucio nel barbello al 13 ok ok vabbè con la torre non ha più senso difenderlo aspetta 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 guarda che questo ci recupero ok facciamo così facciamo così facciamo zappiamo ok in un certo senso abbiamo zappato bene buttiamo via tutta sta roba mandiamo le frecce anche se un po' inutile anzi no 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 raga bella giocata bella giocata bella giocata raga si sale alle 4000 copp vai così becclix e io mi sono iscritto al canale vai tranquillo si ma falli entrare anche in live programmer falli entrare anche in live 245 raga dona ai membri del canne 4 carte di rarità aspetta vediamo richiedete 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 ok 101 iscritti ragazzi grazie mille a tutti per il supporto vi invito sempre a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale arriviamo alle 4000 copp raga e stacchiamo la live che vado anche a mangiare e mi raccomando spargete anche la voce ai vostri amici che si sono iscritti ora ditegli di dirgli ai loro amici raga lo deve sapere tutto il mondo il mio canale lo deve sapere tutto il mondo dobbiamo arrivare a molti iscritti tanti iscritti tanti tanti iscritti raga ci tengo più ne abbiamo meglio è prossimo traguardo 150 iscritti 5 6 6 6 6 6 6 Ok raga Arriviamo alle 4000 coppe E stacchiamo la live che devo andare anche a mangiare Anche se sono a 20 minuti di live Così poi vi aprirò il baule Costruibile in live Componibile, sbagliato Raga chi fa iscritto ricambio Io ora mi iscrivo Mi iscrivo ai vostri canali Tranquilli, tranquilli State tranquilli Per chi volesse salire alle 4000 coppe Mettetevi questo mazzo Che è perfetto raga È perfetto questo mazzo Cioè Tre corone portate così a casa Copiatevi il mio mazzo No, non te la faccio fare la torre Perché sono così in labbo Mi dispiace Ma io mi faccio le tre corone Raga Siamo saliti alle 4000 coppe Siamo saliti Ciao Gabriele Russo Ciao Gabriele Grazie di esserti iscritto al canale Perché sei nuovo Da quanto ho capito Spargi la voce Gabriele con i tuoi amici Restate sempre attivi Più tardi farò anche un'altra live Ah una cosa fondamentale raga Ci ho fatto anche un video Su questa cosa E riguarda questa cosa Non iscrivetevi E poi vi disiscrivete Una volta che vi iscrivete ragazzi Non levatevi più Se no Non raggiungiamo mai L'obiettivo Ah che bello Qua boom Raga io come glielo levo L'estrattore Con la pinna Come glielo levo io L'estrattore No piccola minchia Come glielo levo A sto qua L'estrattore Girati Girati Dovrebbero vincere I miei barbari Oddio ma come che non hanno vinto I miei barbari Ah ok Mi raccomando Mettete un bel like Alla live E restate sempre attivi Eh ma questo qua Ora mi sia Ai tempi supplementari Mi fa un culo Quanto una casa Ve lo dico io Raga Se non attacco Adesso Questo qua Mi fa un culo Quanto una casa Enorme Mi tocca stare In difesa In difesa 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 E qua dovrei mettere Il gran cavaliere Dai veloce 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 Raga Questo mi ha recuperato La partita In una maniera Stato bravissimo No raga È stato bravissimo Mi ha recuperato La partita No vabbè Ma con l'estrattore Un colpo Avrei vinto Vabbè Non mi ha allevato Molto Comunque Ora L'obiettivo mio Sarebbe Farmi tutte Le leggende Al due Questa Già ce l'ho Due Questa Già ce l'ho Al due Questa All'uno All'uno Al due Al due All'uno 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 La potrei fare Al due E ho finito Il gioco Vi farò Anche Il live Scrivetemi Se volete La volete Il baule Del clan Aperto In live Scrivetemelo Scrivetemi Se volete Il baule Del clan In live Volete Che vi faccio Una live Sul baule Del clan Sì 100 iscritti Dennis L'ho visto Grazie A tutti Per il sostegno Grazie Mille Scrivetemi ho messo male guarda il clan rpp clan e dimmi cosa ne pensi io sono il capo cassinese s4 ma di clash royale giusto ecco Per chi volesse fare battaglie 2v2 Mi manda la richiesta su facebook Così giochiamo assieme Qua facciamo così Ora stacco la live perché vado a mangiare Dovrei buttare Se qua nessuno difende Porca la puttana Allora Cassine S14 Mi sembra che sei nuovo Cioè sei nuovo Un nuovo iscritto Mi raccomando Spargivoce 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 Raga mi manca una carta Apriamo il baule insieme Anzi mi vado a fare una battaglia normale Abbiamo detto che arriviamo alle 4000 coppe Vediamo che fa lui Facciamo così Per me è un attacco fortissimo Fortissimo Raga è questo Un attacco proprio forte Andiamo a zappare Perché dovevo capire com'era il suo mazzo Per questo Guarda il clan Sì ora lo guardo Lo vado a cercare Comunque Dal clan non posso uscire in questo Non perché non voglio Non ci trovo bene Per quanto riguarda le donazioni E tutto Poi già ci sono da un anno In questo clan Quindi non è che posso prendere E uscirmene così Senza un motivo Palido Ho sbagliato Minchia la sfiga Quando c'è la sfiga Lo voglio fare impazzire Sto qua Non gli voglio far capire niente Tanto ti faccio così Poi ti faccio così Ti faccio pure così Vediamo tu che mi fai Ok io ti butto No compà Ti devo fare morire Ti butto tutta la roba Che mi trovo Ci vado proprio cattivo Pesante Pesante Vai così col fantasma Vai Bombarolo qua tattico Una zap qua Dai Entra in torre Che tu fai male Entra in torre Che tu fai male Ora se mi butta un Bravo così Raga Minchia Quando Quando ci sono questi giocatori Mi piacciono Mi piacciono Questi giocatori Perché mi ascoltano Vai così Vai così Compà Non ti puoi difendere più Ti sto a buttare il mondo Eh porca miseria Oh Perfetto Raga G per noi Vai così Allora Come si chiama Il clan Come si chiama il clan Come si chiama il clan Che lo guardo Rpp clan Allora Rpp Clan Qual è Tra questi Siamo 50 Qual è Il primo Questo E questo Ah il secondo Il secondo Questo Tu sei questo Giusto Buono Buono come clan Ok raga L'ultima partita Di oggi E poi vado a Magna Che si è fatta Una certa Ora Arriviamo Alle 4000 Ok Se mi mette lo stregone elettrico Dietro sono fottuto A vita Perché le cose me le chiamo Perché le cose me le chiamo Mi appena entriamo nei tempi supplementari E questo qua Vi faccio il culo Vai così Vai così Tu girati Tu girati Tu girati Girati Doppiamo Vai così Vai così No raga Ma non è possibile Cioè Arrivo al punto di salire Di arena E mi fa tipo scendere Come se Buono Non lo capisco Cioè Sembra che me lo fa apposto Cioè Guarda Guarda che c'è qua Porca miseria Posso provare A fare così Il tutto per tutto No raga Minchia Speriamo che mi leva Pochi trofei E che A meno 29 Va bene ragazzi La live di ora No di oggi Di ora Finisce qui Spero che vi sia piaciuto Abbiamo passato un po' di tempo Un 40 minuti insieme Spero vi sia piaciuto E mi raccomando Vi invito a lasciare un bel mi piace Spolliciate con i like A non finire E la cosa fondamentale Iscrivetevi al canale Attivate Attivate la campanella Della notifica Spargete voce Con i vostri amici Cercate di essere Tanti In live Quando la faccio E niente ragazzi Da tubemaster È tutto Ciao casines Ciao a tutti Quelli che sono online Ora Bella a tutti ragazzi Tubemaster Ci vediamo Comunque oggi ne farò Un'altra live Tranquilli Voi restate attivi Che tanto appena sono in live Vi arriva la notifica Bella a tutti ragazzi Tubemaster Ciao ciao Ciao